L'opzione sugli sgomberi e l'accelerazione sugli sgomberi ha destato un po' di polemiche. Si dice che molte famiglie finiranno per strada. Dove le mettiamo? Qua bisogna tornare a tutelare gli italiani per bene. Sono pochissimi gli occupanti abusivi per reale necessità. La strada in maggioranza sono furbi o sono violenti. E quindi bisogna restituire il diritto alla proprietà privata che è difeso dalla Costituzione. Quindi se occupi e non ne hai titolo lasci quell'appartamento. I pochi che sono in condizioni di necessità verranno aiutati dai sindaci. La stragrande maggioranza che occupano perché lo fanno come atto di violenza smetteranno di farlo.